Venerdì 29, sabato 30 e domenico 1 ottobre avrà luogo a Savigliano la prima edizione di Meeting, manifestazione dedicata alla razza bovina piemontese. Col diretti Cuneo sarà presente con il proprio stand istituzionale per continuare la battaglia di sensibilizzazione importante per allevatori e consumatori sui rischi della carne sintetica e del latte sintetico. Inoltre col diretti sabato 30 alle 9 e mezza presso l'azienda agricola La Riccardina di Carlo e Angelo Bodrero organizzerà il convegno La razza piemontese tra sostenibilità e benessere. Tra i temi trattati l'efficienza e la sostenibilità nell'allevamento bovino da carne con un focus sull'alimentazione, il benessere animale e il sistema Classi Farm con i suoi impatti sulla premialità della PAC. Al convegno seguirà poi una visita all'allevamento aziendale. Ne abbiamo parlato con il direttore di col diretti Cuneo Fabiano Porcu. Per maggiori informazioni e per prenotarsi al convegno si può contattare il proprio ufficio zona col diretti. Sabato 30 sarà un'ulteriore occasione per parlare di un'eccellenza del nostro territorio che è quella della razza bovina piemontese. Partiremo nella manifestazione Meeting Savigliano con un convegno la mattina per i nostri allevatori. Sarà un convegno tecnico che si incentra principalmente sulle novità di Classi Farm e la nuova normativa PAC. Ma poi seguirà la nostra presenza in tutta la manifestazione con il nostro stand istituzionale dove denunceremo due grossi problemi. Il primo è quello della remuneratività di questa eccellenza del nostro territorio perché ancora oggi non dimentichiamo che i nostri allevatori producono sotto i costi di produzione con tutti i problemi che questi ne derivano per la permanenza e per la sopravvivenza delle imprese. Ma l'altro argomento forte sarà la nostra battaglia che continua contro la carne sintetica e contro il cibo sintetico in generale. Quel cibo che ci vogliono far credere che debba sostituire il cibo che i nostri allevatori, i nostri agricoltori da secoli producono nelle nostre montagne, nelle nostre colline, nelle nostre pianure che ha fatto e ha segnato la nostra storia. Quindi quel cibo che deve continuare a essere sul mercato e non può essere sostituito da qualcosa prodotto in laboratorio. Questa sarà la nostra battaglia che noi continueremo a portare avanti sempre in difesa dell'agricoltura italiana.